Ad è stato commozione e sgomento la notizia della scomparsa del magistrato Fabio Papa stroncato da un malore all'età di 61 anni, il cui corpo ormai privo di vita è stato trovato nella sua abitazione alle porte di Campobasso dai carabinieri. Da alcune ore infatti il sostituto procuratore del capoluogo non rispondeva più al telefono e per questo era scattato l'allarme. Sul posto i sanitari del 118, il medico legale e i sostituti Carollo e Santo Suosso. Papa originario di Pescara era in magistratura da oltre 30 anni, è stato uno dei PM più attivi e noti del Molise, è stato lui infatti a coordinare decine di importanti indagini. Il magistrato nel 2015 era finito al centro di una vicenda giudiziaria con l'accusa di aver fatto un tentativo di estorsione all'allora presidente della regione Paolo di Laura Frattura, vicenda dalla quale era uscito con le assoluzioni piene e una totale riabilitazione anche nel suo ruolo di sostituto procuratore a Campobasso. La notizia della morte di Fabio Papa ha sconvolto l'intera regione, il magistrato era molto conosciuto e viveva nel capoluogo molisano da moltissimi anni. Numerosi messaggi di cordoglio, sgomenti apprendiamo con profonda commozione la tragica notizia della prematura scomparsa del collega Fabio Papa, hanno scritto in una nota il presidente della sezione del Molise dell'Associazione Nazionale Magistrati Michele Russo e del procuratore capo di Campobasso Nicola D'Angelo. Esprimiamo sentita vicinanza ai familiari per la perdita del caro Fabio, del quale abbiamo sempre apprezzato la serietà, la capacità e il riservo nell'esercizio dell'attività giurisdizionale. Il presidente del Tribunale e il procuratore della Repubblica di Isernia, rispettivamente Vincenzo Di Giacomo e Carlo Fucci, si dicono profondamente commossi e piangono la prematura scomparsa del carissimo e stimatissimo magistrato, hanno detto, unendosi al profondo dolore dei suoi familiari e amici. Aveva prestato servizio, tra l'altro, al Tribunale di Isernia e alla procura isernina, hanno ricordato, e per la sua grande professionalità unita alla sua altrettanto grande umiltà e umanità, aveva goduto di un animi apprezzamento da parte di tutti. Tra i tanti messaggi arrivati nel corso della giornata, anche quelli dell'amministrazione comunale di Campobasso, delle Camere Penali e dei parlamentari Costanzo della Porta e di Elisabetta Lancellotta. Anche Miglioizzo, a nome del suo movimento, esprime commozione per la prematura scomparsa del magistrato. Cordoli è stato espresso dal presidente della regione, Francesco Roberti, secondo il quale la magistratura e la procura di Campobasso perdono un valido magistrato, un servitore dello Stato. Intanto, davanti all'obitorio del Cardarelli di Campobasso, dove è stata allestita la Camera Ardente, un viavai di parenti, amici e colleghi arrivati per dare l'ultimo saluto. Dopo gli accertamenti di rito, il magistrato di turno ha concesso il nulla osta per i funerali che si svolgeranno domenica a Pescara alle 16.30 nella Chiesa del Mare.